Disney Junior presenta i magici momenti di Muppet Babies. Rizzo sfida Kermit a una gara di ballo, ma Kermit è più bravo a pulire che a ballare. Come farà? Inizio prima io! Il Kermit non può batterlo! Visto? Pensa quanto sarò bravo quando avrò tutta una stanza dei giochi in cui allenarmi. Oh, questo lo vedremo! Oh, pastro! Forza, Kermit! Fagli vedere chi sei! Oh, questi coriendoli fanno scivolare, sarà meglio pulire. Aspetta un po'. Kermit, sistema i libri, dai! Ehm, cosa? Come quando riordini. Sistema quei libri. Come? Intendi così? Oh oh, guarda che aloni sul maxi schermo. Meglio pulirli. Cosa? Ehm, ok. E a destra, e a sinistra, e a destra! Oh, sì, ho capito! Kermit, metti a posto i balloni! E che stiamo facendo? Stai ballando! Davvero? Oh oh! Lava l'auto! Lava per terra! Suona baccheria! Ehi, sto ballando! È divertente! Io non ho mai visto niente del genere. Hai vinto, Rana. Sei il ballerino migliore. Che fai, Lizzo? Non preoccupatevi, da oggi non vi disturberò più! Hai vinto, e anche lealmente. Aspetta, quella stanza dei giochi è grande. Tu puoi venire quando vuoi. Non scherzi? No, ma ci aiuterai a tenerla in ordine. Non lo so. Non sono bravo a essere ordinato. Ma dai, se io posso ballare, tu puoi pulire. Ci sto. Mi piacciono le sfide. Grazie all'aiuto dei suoi amici, Kermit trova il suo stile. E Rizzo trova dei nuovi amici, quando capisce che è più divertente fare le cose assieme. Continua a guardare altri magici e momenti e non perdere Muppet Babies su Disney Junior. Clicca sullo schermo per vedere altri video e vai su Disney Junior per seguire i tuoi programmi preferiti.